C'è attesa per l'incontro sulla questione Treofan che si terrà giovedì presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel corso del Vertice la Gindal dovrebbe comunicare il piano industriale e le decisioni in merito al riavvio della produzione nel sito di Battipaglia. Nel corso dell'ultima riunione, stando a quanto riporta il Mise, è stata ribadita la necessità che Gindal si impegni in tempi brevi a riavviare la produzione a Battipaglia e garantire le prospettive anche sul sito di Terni coinvolgendo le parti nel merito del piano industriale che riguarda tutti i siti produttivi dell'azienda presenti in Italia.